La Tunisia blocca nuove partenze di barconi verso Italia La Tunisia blocca nuove partenze di barconi verso Italia Il fatto di raggiungere alle isole Kirkenna il luogo deputato per la partenza verso le coste italiane In unaltra operazione le forze dell'ordine hanno invece arrestato 12 giovani che si accingevano ad imbarcarsi dalle coste di Sidi Mansur . Grazie a tutti!